Prima le uscite e poi le entrate. Questo è il monito in casa Foggia per il mercato di gennaio, che sino ad ora non ha registrato alcun movimento né tra gli acquisti né tra le cessioni. Quattro dovrebbero entrare, tre dovrebbero uscire. Queste le porte girevoli per la rosa di Zeeman, che dovrebbe essere puntellata con un difensore centrale, un terzino, un centrocampista e un attaccante. Tre nomi che circolano e spuntato, anche quello di Luigi Cuppone. Il classe 1997, nato a Nardò e al Cittadella in Serie B, ma ha collezionato solo cinque presenze ed una vecchia conoscenza di Nicola Canonico, che lo ha avuto nella sua esperienza a Biceglie quando lo prelevò dal Pisa nella stagione 2018-2019. Mise a segno una rete in 15 presenze, poi le esperienze a Monopoli e a Caserta. Proprio in campagna con la Casertana, l'annata migliore per lui. 32 partite, 14 gol e 3 assist, che sono valsi la chiamata dalla Serie B e dal Cittadella, che sino a questo momento però non ha dato grandi soddisfazioni in termini di minutaggio. Solo 120 minuti giocati dall'esterno salentino. Potrebbe dunque prendere in considerazione l'ipotesi di tornare in Serie C e accettare il progetto Foggia, e magari valorizzare le sue qualità con il maestro Boemo per tornare a far bene e a segnare.